buonasera a tutti benvenuti ben ritrovati in questo nuovo appuntamento del lunedì sera ormai un classico di besprato come state vedo già delle persone che sono collegati moltissimi di voi immagino saranno in ferie fateci sapere fatemi sapere nei commenti di questo video da dove vi collegate se siete già in vacanza oppure no vedo che come al solito il video va un po va e viene preparato delle slide quindi toglierò questa immagine del mio faccione intanto la stoppo nel frattempo che diamo tempo nel frattempo che diamo tempo bel gioco di parole saluto un po di persone nel frattempo che diamo tempo a youtube di segnalare che siamo in diretta agli amici di facebook di venire a tutti quanti di collegarvi perché credo insomma che questa sera tratteremo alcuni argomenti di là interessanti o meno dipende un po dai vostri interessi ma alcuni di queste questi argomenti mi sono stati sollecitati proprio da voi in maniera particolare faremo un piccolo approfondimento sugli agenti umettanti vi spiegherò quello come li proviamo ad utilizzare proprio in questi giorni nel giardino di besprato vi aggiornerò sullo stato del giardino di besprato che sta riprendendo piede anche un po grazie a questi abbassamenti delle temperature sarà una settimana un po particolare sono previsti soprattutto nel centro nord italia a partire da dopodomani una serie di temporali per questo parleremo questa serie di temporali di che cosa significa in termini di irrigazione che tipo di modificazioni ci costringono a fare la parola giusta proprio ci costringono a fare perché in realtà pensare che un temporale in sé per sé sia in assoluto una buona cosa e lo è però se abbiamo l'impianto di irrigazione dobbiamo andare a fare delle modifiche altrimenti potremmo anche come si suol dire darci la zappa nei piedi però insomma prima di entrare proprio nel nel vivo preparato dicevo anche delle slide saluto un po di persone daniele del bel belluz ciao fabio un po che non ci sentiamo ma lavoro chiama ps poco tempo fa un venerdì mattina sei passato in piazzetta pescheria davanti alla mia baracca del pesce frito ma dai daniele allora mi fermo la prossima volta daniele evidentemente gira i mercati perché a san vito tagliamento che la sede di il besprato il venerdì mattina in piazza c'è il mercato buonasera anche a giuseppe tutto bene grazie giuseppe grazie davide sì certo faremo proprio delle valutazioni davide per quanto riguarda il discorso dei temporali giovanni calabro saluti dall'ospedale di treviso giovanni cosa è capitato presente spero nulla di grave tanti auguri anzi in bocca al lupo non si dice gli auguri si dice in bocca al gruppo per una pronta guarigione buonasera rino ciao manuel manuel narducci francesco buongiovi alessandro beniero vencislav simone girolimetto direttamente dalle vacanze in streaming grandi e simone luca zambon alessandro beniero pietro iannata luigi polesella emiliano zausa beh insomma qualche persona non proprio tutti sono in vacanza allora faremo una diretta come al solito cercherò di fare come al solito come la volta scorsa cercherò di farla un po più stretta 21 57 stop stop nel senso farò un'introduzione proprio sui temi che fanno parte di questa diretta per una trentina di minuti dopodiché spazio le vostre domande e andiamo con tutte le risposte di cui avete bisogno allora di cosa parliamo parliamo facciamo un approfondimento questa sera sull'irrigazione sulla modalità di irrigazione chi tra di voi ci segue con una certa costanza avrà già sentito parlare molte volte del tema dell'irrigazione irrigazione svolge un ruolo importantissimo declineremo i cinque punti fondamentali per l'irrigazione ricorderemo quali sono i punti fondamentali per eseguire un'irrigazione a regola d'arte parleremo un po anche delle capacità di campo del terreno alcuni argomenti un po più tecnici che molto spesso di cui non ne abbiamo parlato molto spesso ma è a culpa faremo proprio un approfondimento sulle caratteristiche diciamo di ritenzione idrica di un terreno e di come l'acqua si muove nel terreno perché è fondamentale per capire tutti i processi di vita del tappeto erboso parleremo dei temporali perché nei prossimi giorni sono i temporali e questi ci obbligano a fare un'ambidificazione del nostro sistema di irrigazione in concluderemo con un piccolo approfondimento sugli agenti umettanti degli agenti umettanti del tipo tra altre cose apre una piccola parentesi visto che facciamo passare altri due minuti c'è stato un bellissimo commento ne parlavo anche ieri è uscito un articolo sul blog di besprato nel quale presentiamo gli agenti umettanti di tipo semplice di tipo composto ovviamente gli agenti umettanti sono formati da tensioattivi quindi sono degli elementi che sono presenti anche all'interno dei saponi e in alcuni forum c'è scritto che al posto di utilizzare gli agenti umettanti è possibile utilizzare anche del detersivo da piatti allora non ho nulla contro detersivo da piatti sicuramente c'è una certo tipo di similitudine per con quanto riguarda il tensioattivo di tipo semplice con l'agente umettante di tipo semplice che fondamentalmente è un sapone con un unico elemento tensioattivo ma ragazzi la stragrande maggioranza dei saponi detergenti non sono formati solamente da tensioattivi ma sono formati anche da degli ulteriori elementi che servono ad aumentare la capacità aggredente detergente e satinante del sapone quindi insomma prima di utilizzare un normalissimo sapone da piatti nel tappeto erboso ci penserei due volte bene direi saluto un altro po di persone roberto cagnari francesco ceraudo gabriele sciovolone ciao gabriele buonasera riccardo fares roberto cagnan luigi polesella e gabriele che mi fa credo una bella domanda gabriele vero a rispondere saluto anche gaetano che si collega in questo preciso istante allora partiamo con le slide perché vediamo di farle vedere eccole qua allora metodo besprato ormai abbiamo capito a tra le altre cose prima di partire stiamo per andare in ristampa con il primo libro di besprato ragazzi il giorno che sarà veramente certo che andiamo in ristampa io credo che sarà andremo in ristampa con la prima settimana di settembre un risultato che mai e poi mai dopo dunque dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre dopo dieci mesi andiamo già in ristampa veramente una grandissima soddisfazione mi state riempendo di orgoglio grazie veramente a filo d'erba il metodo besprato per avere un bel prato molti di voi so che ce l'hanno un libro pensato per tutti coloro sia principianti che coloro invece che hanno già delle informazioni è una specie di manuale che tocca tutti quanti gli aspetti per creare mantenere un bel prato tutto quanto l'hanno un libro che per ora non lo trovate neanche nello shop di besprato abbiamo deciso di lasciarlo solo disclusivamente in esclusiva su amazon bene allora avevamo detto slide eccole qua no ci sono già partiamo partiamo subito bando alle ciance irrigazioni temporali agenti umettanti partiamo con due considerazioni sull'irrigazione corretta ormai chi mi segue dovrebbe già conoscere quelle che sono gli elementi base per fare un'irrigazione corretta ma ricordiamoli allora in primis un'irrigazione corretta per il prato è un'irrigazione abbondante un'irrigazione estremamente abbondante che va cioè a portare a capacità di campo piena il terreno ce lo va a idratare nella maniera corretta nei primi 15 20 centimetri quindi solitamente si fanno delle lunghe irrigazioni come quantità di acqua ormai dovremmo sapere ormai chi mi segue dovrebbe sapere che parlando di un terreno medio e parlando di una cultivar c'è una specie di tappeto erboso media come la festuca rondinacea un terreno 60 70 per cento sabbia e 30 per cento argilla limo in queste condizioni il tappeto erboso il sistema prato terreno ha bisogno di 35 di litri di acqua a settimana questa è l'acqua che dobbiamo andare a dare se l'irrigazione deve essere molto abbondante deve essere anche ormai lo sappiamo infrequente cioè dobbiamo andare a dare questi 35 litri di acqua al metro quadro in suddivisi in massimo due o tre irrigazioni durante la settimana anche quando fa molto caldo non si bagna tutti i giorni ormai dovremmo essere entrati in questo sistema dovremmo averlo capito l'irrigazione quindi non si misura i minuti mi arrivano sempre moltissimi mail ma fabio io bagno mezz'ora ogni giorno va bene no non va bene bagnare ogni giorno e no non va bene bagnare mezz'ora per capire quanti minuti bisogna irrigare il prato bisogna misurare i litri di acqua per misurare i litri di acqua si utilizzano anche degli strumenti semplicissimi come questo vediamo di andare un po questo è il famoso oramai è tutto sporco per cui lo tengo con due dita perché l'ho tirato fuori dal giardino questo è il famoso pluviometro di besprato un costosissimo attrezzo da 4 euro poco più di 4 euro che trovate o meglio esaurito esaurito arrivano i nuovi pluviometri con le nuove scritte arrivano la prima settimana di settembre ne abbiamo venduti quasi mille c'è una quantità pazzesca perché è uno strumento utilissimo permette di capire in quei 30 minuti ad esempio che irrigate quanti litri andate a dare nel terreno abbiamo capito quindi irrigazioni abbondanti irrigazioni infrequenti irrigazioni che devono far sì che il suolo si asciughi per più tempo possibile quindi dobbiamo irrigare alla mattina presto dobbiamo fare delle lunghe pause dobbiamo calibrare in maniera tale che la lamina fogliare e il primo centimetro di terreni si asciughi velocemente perché perché lasciare un terreno e lasciare le foglie umide ormai dovremmo saperlo che attira la risottonia solani e il pitium come fosse miele per le api quindi se vogliamo il prato sano se vogliamo il prato libero dalle malattie irrigazione abbondante infrequente fatta la mattina e poi gli ultimi due elementi io solamente lì ve li ricordo per molti di voi sono cose che ormai dovrebbero essere automatiche per chi tra di voi invece si sta ancora insomma cercando di capire gli altri due elementi molto importanti per quanto riguarda l'irrigazione corretta del prato è che bisogna verificare l'omogeneità perché molto spesso gli impianti di irrigazione non sono mai regolati bene è anche difficile molto spesso regolarli bene prova ne è l'impianto di irrigazione sul vesprato in cui essendo un terreno molto piccolo le sovrapposizioni molto spesso non è facile bisogna andare in extra sovrapposizione magari perché ci sono degli angoli ciechi e quindi si rischia in alcuni punti di dare troppa acqua per dare la l'acqua corretta in altri punti la verifica dell'omogeneità dell'irrigazione la si fa di nuovo attraverso uno strumento come questo perché se noi andremo a posizionare in un punto a il pluviometro facciamo andare l'impianto di irrigazione per mezz'ora vediamo che ha raggiunto l'attacca numero 10 che significa 10 mm che significa 10 litri al metro quadro in quel punto andiamo a prendere andiamo a spostare in un altro punto facciamo andare di nuovo l'impianto di irrigazione scopriamo che al posto di 10 qui c'è 7 significa che in quel punto avremo dato 7 litri di acqua al metro quadro e quindi che l'impianto non è perfettamente omogeneo molto spesso si riesce semplicemente con un pluviometro a capire il problema di una secchezza localizzata in un punto perché andiamo a misurare in quel punto e magari lì l'irrigazione perché l'irrigatore ha l'ugello storto perché l'irrigatore ha il rompigetto messo male perché la sovrapposizione è fatta male perché il getto è troppo basso perché la testina non si alza abbastanza perché il prato è a una baulatura eccessiva per mille ragioni andiamo a scoprire che in quel punto c'è una quantità d'acqua veramente bassa ed infine l'ultimo elemento il quinto elemento che determina un'irrigazione corretta è quella che oltre che verificare che sistema irriguo sia tarato correttamente dovremmo verificare anche che il sistema prato sia capace di assorbire l'acqua guardate molto più spesso molto non mi viene la frase e molto spesso ci verificano dei problemi non solo e non tanto per una scorretta regolazione del pianto di irrigazione ma per cui in quel punto lì c'è un fenomeno cosiddetto di idro repellenza mi sono arrivate diverse non dico tante però sicuramente più di 3 3 4 email di ragazzi di persone che hanno acquistato il pluviometro di vesprato e che ci hanno ringraziato perché hanno scoperto che c'era una idro repellenza in realtà l'hanno scoperto perché in quel punto arrivava l'acqua il pluviometro diceva che l'acqua arrivava ma lì c'era una secchezza malattia fungina non ce n'era poi per conficcare il pluviometro di vesprato nel terreno e utilizzando questo punteruolo scoprivano che c'era una grandissima difficoltà a conficcare nel terreno il motivo era che quel terreno era compattato e c'erano dei fenomeni di idrofobia in quel caso lì si correggono questi fenomeni di idrofobia proprio utilizzando gli agenti umettanti di cui parleremo nella seconda parte di questa diretta fatemi un attimo tornare in diretta per capire che sia tutto ok qualche volta io continuo a parlare sì sì tutto ok ciao andrea buonasera al vitti altre persone si sono collegate bene quindi facciamo riepilogo torniamo con le slide irrigazione corretta mi raccomando importantissima anche nei prossimi giorni irrigazione abbondante 35 litri a metro quadro settimana infrequenti 2-3 irrigazione settimana lasciare il terreno asciutto per il più tempo possibile irrigazione quindi alla mattina verifica dell'omogeneità dell'irrigazione attraverso i pluviometri e verifica dell'assorbimento dell'acqua attraverso l'osservazione il cacciavite in questo caso c'è provare a ficcare un cacciavite se non avete il punto a ruolo del pluviometro di best prato bene eccolo qua ho preparato anche una foto del del famoso pluviometro di best prato credo questa sia la prima versione sì con la scritta ancora in minuscolo curva mamma mia ok bene abbiamo capito come si regola bene l'impianto di irrigazione ma che cosa succede quando capita un temporale beh è abbastanza evidente che nel momento in cui succede un temporale si scombusola tutto il sistema irriguo è evidente che il temporale la pioggia porta dell'acqua e quest'acqua fondamentalmente va a reidratare il terreno facciamo un caso un po limite ma facile che si verifichi in determinate situazioni abbiamo detto che l'obiettivo dell'irrigazione oltre che ovviamente dare acqua dare la giusta quantità di acqua l'acqua è fondamentale importantissima lo vedremo tra un attimo quando parliamo degli agenti umettanti e dello scopo che ha l'acqua di mantenere la soluzione circolante l'assorbimento dei nutrimenti ok facciamo ad esempio un caso in cui in piena estate con temperature elevate si verificano due temporali settimanali noi abbiamo un preciso scopo che oltre che quello di dare l'acqua è anche quello di mantenere il terreno asciutto ed è evidente come i temporali possano andare a creare un forte scombussolamento perché se ad esempio noi abbiamo deciso di irrigare tre volte a settimana il lunedì il mercoledì e il sabato e il martedì e giovedì capita un temporale cosa succede che il nostro tappeto erboso rimarrà umido lunedì martedì giovedì venerdì sabato insomma rimarrà sempre umido in maniera particolare se magari temporali come spesso accade accadono la sera qui alla sera poi c'è il mantenimento dell'umidità per tutta la notte la roggiata la mattina e quindi il temporale tendenzialmente potrebbe creare una situazione di stress di stress da un punto di vista dei pericoli e dei rischi dell'irrigazione quindi la prima cosa la prima e più importante cosa da fare in caso di temporali è sapere quando è capitato il temporale ma soprattutto a quanta acqua è caduta si dobbiamo abituarci a scusate che tolgo un attimino la slide che tanto non dice niente dobbiamo abituarci a capire a sapere quanta acqua porta un temporale ovviamente anche in questo caso il plurometro di bestratto è molto utile in questo senso perché ci permette lo lasciamo lì fuori dopo il giorno dopo vediamo vediamo ad esempio vi farò vedere anzi ve le faccio vedere vi faccio vedere la slide relativa diamo subito al dunque eccola qua scusate ecco qua ovviamente un'altra maniera per sapere quanta acqua è caduta è quella di collegarsi via internet ad una centralina possibilmente situata una centralina meteorologica situata nella zona questa è una centralina meteorologica non nel terreno di bestrato ma circa 56 chilometri da qua ma insomma questa è la giornata del 2 di agosto quindi tre giorni fa che ha piovuto come vedete a mezzanotte diciamo erano caduti circa 13 millimetri di acqua ed erano proprio i millimetri che poi in realtà il plurometro di bestrato è il plurometro che avevamo piantato segnava 10 quindi vuol dire che in centralina sono caduti 13 e qui da noi qui proprio nel luogo specifico erano caduti 10 però 13 millimetri di acqua in temporale è una bella quantità tra l'altro è un temporale molto breve i temporali sono capaci di portare anche 30 40 50 60 talvolta anche 100 millimetri di acqua ovviamente quando un temporale supera i 40 millimetri di acqua in realtà è andato a saturare adesso non voglio entrare troppo in tecnico però quella quantità d'acqua è eccessiva nel senso che le radici dell'erma generalmente di un prato normale ben mantenuto si sviluppano nei primi 15 20 centimetri e la quantità d'acqua che deve cadere per andare a diciamo come dire creare la massima capacità di campo di quel terreno se noi andiamo a dare in altre parole più di 30 40 millimetri di acqua quell'acqua lì scivolerà e fondamentalmente creerà solamente una situazione di disagio allora torniamo un attimino al concetto di che cosa fare durante dopo un temporale e faccio un piccolo passo indietro perché molto spesso alcuni di voi mi dicono sì ma fabio io c'ho il sensore di pioggia collegato al mio impianto di irrigazione che sospende l'irrigazione quando piove bellissima cosa utilissima per risparmiare acqua inutile per quanto riguarda il settaggio dell'impianto di irrigazione a meno che tu non abbia una centralina di ultima generazione dotata di un software intelligente con i modelli dell'hunter quelli controllabili via internet le centraline wifi della toro i modelli più avanzati della rainbird hanno anche dei software al proprio interno che se collegati a dei sensori di pioggia capaci o delle centraline capaci di misurare la quantità di acqua che è caduta riescono a fare dei calcoli approssimativi e posticipare lo start dell'irrigazione perché il primo effetto di un temporale è quello che se la nostra centralina è programmata per bagnare il giorno dopo il temporale dovremmo andare a slittare l'irrigazione di quanto lo andiamo a slittare dobbiamo conoscere quanta acqua è caduta ad esempio in questo caso sono caduti facciamo finta che è capitato un temporale come quello del 2 di agosto adesso mi ricordo se era venerdì mi pare sì venerdì 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 2 agosto mettiamo sia venerdì 2 agosto caduti 13 mm di pioggia l'impianto doveva partire mettiamo il sabato in realtà questa irrigazione permette l'idratazione il nutrimento del nostro tappeto erboso per sabato per domenica e anche per lunedì in realtà con questa situazione con la situazione del tappeto erboso di bespratto che non è completamente al sole con il fatto che di notte adesso le temperature si siano abbassato e di giorno non le temperature almeno qui non oltrepassano i 29 30 gradi il consumo d'acqua è anche minore quindi questo temporale ci ha permesso di non accendere l'impianto di irrigazione fino praticamente a domani siccome dopo domani è previsto un altro temporale e siccome il prato di besprato è un prato che è stato attaccato dal pittium abbiamo deciso di portare di provare a riportare in stress idrico significativo il tappeto erboso vedete come una malattia fungina e un temporale ci scombusselino completamente il sistema di irrigazione ovviamente in tutto questo gioco l'osservazione visiva del prato cioè saper riconoscere quando un prato inizi ad andare in stress idrico è fondamentale per poi andare a mettere in in atto tutte quelle tecniche quelle strategie di contrasto delle patologie fungine di cui abbiamo parlato in molte altre dirette ma qui questa sera parliamo della gestione dell'irrigazione quindi si varia lo start sulla base di quanta acqua è caduta ovviamente se invece ad esempio capita un temporale il giorno dell'irrigazione giorno che avremmo programmato l'irrigazione ecco che lì dipende un po dalla quantità d'acqua perché se ad esempio è un pic se noi abbiamo strutturato il nostro sistema di irrigazione affinché il giorno che irrighiamo un giorno diamo 20 litri di acqua e l'altro giorno a metà settimana ne diamo altri 15 facciamo solo due irrigazioni per dare i nostri 35 litri a settimana se il giorno che dobbiamo dare ad esempio se il 2 di agosto fosse stato il giorno dell'irrigazione da 20 in realtà l'irrigazione è stata da 15 ecco che potremmo in realtà non posticipare la partenza del nostro impianto di irrigazione ma in realtà farlo comunque andare ma ridurre il numero di minuti tali da dare semplicemente 7 litri di acqua al posto di 20 quindi 7 14 21 ridurre il tempo di un terzo mi rendo conto che può sembrare un po macchinoso ma in realtà con un'agenda con un semplice foglio excel si riesce a tenere molto bene controllato tutto quanto al sistema dopodiché se volete semplicemente delegare tutto un impianto diciamo un po intelligente quindi con una centralina collegata a una stazione eccetera potete farlo insomma il mio compito è quello di spiegarvi un po teoricamente molto spesso le persone con cui parlo sono come me sono persone sono appassionate di queste cose qui quindi a me diverte a me prendono in giro quando mi vedono in ginocchio a tirare via le infestanti perché dicono ma cosa stai facendo perdi il tuo tempo a fare quella cosa lì ci sono i diserbi chimici allora a parte il fatto che il diserbo secondo me il tipo chimico è veramente un'assurdità ma lasciamo perdere questo discorso diciamo etico ma a me piace per cui tutto questo discorso per noi è una passione il tappeto arbolo e quindi entrare nel dettaglio di queste cose secondo me è estremamente utile quindi cosa fare quando ci sono i temporali ecco qua riepilogo uno bisogna misurare conoscere quanta acqua è quaduta posticipare la ripresa dell'irrigazione se l'irrigazione era prevista non il giorno del temporale variare la quantità d'acqua se l'irrigazione era prevista il giorno del temporale per metodo mamma mia quando scrivo queste slide faccio tanti di quegli errori se non avete il pluviometro di bestrato per conoscere in maniera un po approssimativa ci sono le centraline meteorologiche dell'arpa che oggi la protezione civile mette a disposizione in quasi ogni regione d'italia oppure ci possono essere dei programmatori di irrigazione che si collegano a dei sistemi di sensori alcuni quelli più evoluti però sono molto molto costosi misurano anche i quantitativi di acqua e veniamo ora all'ultimo step di questa diretta che secondo me vedrete che poi alla fine tutto quanto collegato e tutto torna in un unico calderone perché voglio parlare degli agenti umettanti perché sono fondamentalmente legati alla gestione dell'acqua allora facciamo subito una premessa anche se l'ho fatta all'inizio e spieghiamo che cosa sono gli agenti umettanti gli agenti umettanti sono dei prodotti dei saponi dei prodotti naturali 100 per cento biodegradabili quindi completamente sostenibili quelli ovviamente per tappeto erboso perché ci sono tensioattivi anche chimici anche che non vanno bene che diminuiscono la tensione superficiale dell'acqua cioè quella tensione che fa sì che la gocciolina non rimanga coesa e faccia difficoltà alcune volte a penetrare nel terreno le difficoltà di penetrazione del terreno ad esempio nei terreni a tessitura molto fine quindi argillosi possono avere una difficoltà a far sì che l'acqua li penetri allora gli agenti umettanti servono a diminuire la tensione superficiale e fare in modo che queste diciamo goccioline si sparpaglino in unità adesso la sto semplificando veramente molto più piccola ok e quindi tornano utili in diverse situazioni che adesso andremo a vedere gli agenti umettanti quindi sono di due tipi ci sono gli agenti umettanti semplici cioè agenti umettanti composti solo da un tensioattivo quindi solo da un sapone diciamolo così e che per certi aspetti come caratteristiche sono assimilabili a dei saponi completamente naturali di un certo tipo specifico e con una calibrazione del tensioattivo di un certo tipo generalmente i saponi sono molto più aggressivi sono molto più potenti a livello di tensioattivi rispetto invece agli agenti umettanti per il prato e questo è l'agente umettante semplice l'agente umettante semplice ha solo uno scopo lo scopo è quello di diminuire la tensione superficiale della gocciolina d'acqua quindi vengono utilizzati per aumentare la penetrazione dell'acqua nel terreno per diminuire i fenomeni di idro repellenza dei dry spot i fenomeni di difficoltà da parte del terreno di assorbire l'acqua laddove ci sono i ristagni laddove ci sono dei terreni argillosi che tendono alla compattazione laddove ci sono dei terreni argillosi che sono anche poco carichi di sostanza organica per cui ancora maggior ragione tendono a compattarsi e a diminuire le microporosità vedremo tra un attimo quando parleremo degli agenti umettanti di tipo composto la differenza tra microporosità e la macroporosità sulle quali ho preparato anche delle slide perché molto importante per per capire e quindi gli agenti umettanti di primo tipo di quelli semplici vengono utilizzati fondamentalmente per far sì che il terreno assorba l'acqua sono utilissimi io personalmente li ho utilizzati subito dopo la prima germinazione del prato di vesprato perché in una zona non chiedetemi perché noi abbiamo un terreno fondamentalmente abbastanza sciolto originariamente era un terreno invece piuttosto limoso argilloso quindi con una difficoltà ad assorbire l'acqua che abbiamo modificato attraverso l'aggiunta della sabbia silicea riciclata che trovate in vesprato molto importante questi concetti della sabbia riciclata e adesso non voglio aprire ulteriori capitoli se no ci divariamo troppo abbiamo modificato sistematicamente quasi tutto il terreno evidentemente quella zona lì o il lavoro è stato fatto male oppure non lo so oppure sono stati sbagliati i dosaggi di sabbia che è stata riportata ad ogni modo lì si sono verificati dei fenomeni di significativa idro repellenza ecco che lì appena è germinato abbiamo utilizzato l'agente umettante il water x in questo caso l'agente umettante che trovate in www.besprato.com un tensioattivo di tipo semplice che ha effettivamente risolto i problemi quando bagnavamo subito dopo la germinazione lì si formava un velo d'acqua un piccolo ristagno abbiamo fatto due trattamenti con gli agenti umettanti e si è liberato il terreno ha iniziato ad assorbire l'acqua in maniera quasi triplicato diminuito di tre volte il tempo di assorbimento dell'acqua in quel punto quindi sono molto utili in questa situazione veniamo invece adesso a parlare degli agenti umettanti di tipo composto e qui prima di parlare guardate qua faccio vedere le slide che avevo preparato gli agenti umettanti tipo semplice costituiti da un tensioattivo servono a vincere l'idro repellente mamma mia come scritto servono a vincere l'idro repellenza scusate scusate allora per introdurre gli agenti umettanti di tipo composto dobbiamo dare uno sguardo alla tessitura del terreno e capire l'acqua all'interno del terreno come si muove un terreno è composto fondamentalmente da una parte inerte che solitamente è sabbia se la parte più grossa limo la parte intermedia e argilla la parte più fina sono tutti elementi minerali sgretolazioni da rocce silice calcare eccetera e questa è la parte inerte dopo c'è all'interno una presenza di elementi organici che possono essere di tipo vegetale di tipo animale sostanza organica e questo è il secondo elemento costitutivo del terreno l'altro elemento gli altri due elementi costitutivi del terreno sono l'aria e l'acqua ovvero il terreno e quindi i granelli di terra si dispongono come vedete un po in questa figura a seconda delle loro dimensioni e possono creare come nella figura di sinistra molto più spazi grandi oppure come nella figura centrale molti più spazi piccoli oppure una via intermedia che non è stata disegnata oppure come a destra una granulometria un po stramba agglomerata un terreno un po particolare ad ogni modo qua mi preme farvi vedere come gli spazi rosa sono quelli più grandi le cosiddette macro porosità che contengono l'aria gli spazi invece blu sono quelli che con le micro porosità gli spazi più piccoli che contengono l'acqua quando si dice che il terreno ideale per un tappeto erboso è formato dal 70 per cento di sabbia al 30 per cento di argilla serve proprio a creare quel giusto bilanciamento di macro porosità di micro porosità che serve all'ottimale vita del sistema radicale del tappeto erboso perché un tappeto erboso ha bisogno di acqua di aria e ovviamente della di sabbia limo ed argilla allora perché un eccesso di macro porosità è un problema l'eccesso di macro porosità crea una scarsa capacità di ritenzione idrica cioè l'acqua praticamente siccome ci sono grandi spazi non si ferma nei microspazi e quindi non si sofferma vicino all'apparato radicale e quindi scivola via percola via l'acqua stessa quando ci sono dei grandi spazi si porta dietro i nutrimenti che vengono dati attraverso i concimi ad esempio o attraverso la disponibilità naturale del terreno della sostanza organica un eccesso di macro porosità comporta una grave riduzione in termini nutritivi e un eccesso di macro porosità crea un eccessivo arieggiamento cioè un'eccessiva presenza di ossigeno ci sono alcuni batteri importanti per la salute della rizosfera cioè quindi quello spazio dove sussiste la vita del tappeto arboso che hanno bisogno che hanno bisogno di effettuare dei processi in regime anaerobico cioè in assenza di ossigeno ma se l'eccesso di macro porosità è un difetto anche l'eccesso di micro porosità può essere un difetto perché perché è ovvio è evidente che se gli spazi sono tanti spazi piccoli c'è una difficoltà dell'infiltrazione dell'acqua perché sono molto molto piccoli abbiamo detto che lì se la tensione superficiale è normale dell'acqua fa difficoltà a penetrare c'è una scarsità di ossigeno e anche questo è un problema è un problema sia l'eccesso sia la scarsità tutta la decomposizione del feltro della sostanza organica in ad esempio azoto mineralizzato avviene in situazioni di ossigeno attraverso dei batteri aerobi e quindi la mancanza di ossigeno è un problema ed ovviamente un eccesso di micro porosità difficoltà di infiltrazione tutti i micropori sono comunque occupati da dell'acqua capillare che crea dei ristagni perché ho voluto fare questo lungo cappello introduttivo relativo al discorso delle macro e delle micro porosità perché gli agenti umettanti di tipo composto che sono degli agenti umettanti formati da più tensioattivi quindi sono formati da più principi attivi che servono a bilanciare la tensione superficiale alcuni tensioattivi vanno ad agire sulla tensione superficiale stessa altri elementi che compongono questi agenti umettanti composti servono in realtà a bilanciare le micro e le macro porosità all'interno del terreno andando a che sono studiati per andare a creare quella situazione di migliore circolazione della soluzione circolante questo gioco di parole serve a dire che questi agenti umettanti sono veramente delle vere e proprie bombe da un punto di vista positivo perché da una parte hanno i classici elementi tensioattivi che servono a diminuire la tensione e quindi a far favorire che l'acqua penetri nel terreno ma poi sono composti da altri agenti surfattanti che servono a fare in modo che l'acqua che una volta che penetrate rimanga e si distribuisca nei primi 15 20 cm di terreno sono veramente quasi magici da questo punto di vista e per questo motivo sono tante volte l'arma segreta dei green keeper dei campi da golf o dei campi da calcio in cui si fa grande uso di questo tipo di prodotti proprio perché aumentano la l'idratazione del terreno il terreno assorbe facilmente l'acqua quindi si asciuga quindi minore rischio di patologie fungine ma poi l'acqua la soluzione circolante rimane vicino alle radici e quindi permette un'idratazione perfetta del terreno i vantaggi indiretti di questi agenti umettanti sono tantissimi diciamone alcuni ovviamente ti permettono un grande risparmio idrico perché l'acqua rimane nella zona delle radici e quindi i terreni sciolti permettono di irrigare di meno mantenendo la soluzione circolante perfetta vicino alle radici permettono anche l'assorbimento degli elementi nutritivi in maniera corretta non avviene il classico dilavamento degli elementi nutritivi e quindi i concimi stessi quando si utilizzano assieme agli agenti surfattanti agenti umettanti possono estremamente più ottimizzati generalmente si riesce ad aumentare l'efficacia del concime soprattutto in alcuni casi e li vedremo tra un attimo e quindi a diminuire l'utilizzo stesso del concime ovviamente aumentando la disponibilità idrica vicino alle radici ci permettono di rendere molto più efficaci anche tutti quei trattamenti di tipo radicale sui quali abbiamo battuto il chiodo per tutta la primavera provate un attimino a pensare alle micorizze e al tricoderma e agli acidi umici e gli acidi fulvici quelli che noi dobbiamo dare alle radici del prato se noi li utilizziamo assieme a un agente umettante composto surfattante questo sistema di prodotti anche lui avrà una efficacia e un'efficienza molto maggiore proprio perché la soluzione circolante rimane vicino alle radici e quindi permette una maggiore efficacia del nostro trattamento e non è finita qui perché perché in maniera indiretta questo tipo di prodotti va a combattere due elementi il primo elemento è tipicamente estivo utilizzando questo tipo di prodotti soprattutto quelli composti ma in parte anche quelli semplici il fenomeno della rugiada diminuisce notevolmente la rugiada sappiamo che può essere un problema perché mantiene il prato umido per moltissimo tempo noi in vesprato all'inizio luglio è nato il prato era debolissimo abbiamo avuto i primi segnali di patologia fungina abbiamo sospeso l'irrigazione per cercare di mandare in stress idrico il prato e asciugare il tappeto arboso ma non riuscivamo ad asciugarlo perché perché di notte condensava l'umidità dell'aria erano delle giornate estremamente affose e ci ritrovavamo nella zona umida a ridosso dell'ulivo ci ritrovavamo il prato umido praticamente da mezzanotte dalle 11 di sera fino a mezzogiorno e per cui la rugiada in quel caso lì rappresentava un problema attraverso l'utilizzo degli agenti umettanti degli agenti surfattanti questo problema viene diminuito notevolmente l'altro evidente e chiaro beneficio è quello che vengono ridotti tantissimo tutti i fenomeni di come dire di manifestazione del muschio il muschio si forma laddove c'è il ristagno idrico utilizzando l'agente surfattante l'agente umettante questo tipo di fenomeno viene combattuto in maniera molto molto efficace vedete quindi adesso io ho preparato ho preparato anche delle slide ho preferito parlarvi un po eccole qua qua c'è un riepilogo finale ve lo lascio un attimino in sovrimpressione però devo mettere le slide eccole qua ok c'è anche se un po la copro facciamo un piccolo riepilogo perché è molto importante legato all'irrigazione vedete che alla fine gli elementi per poter giocare con irrigazione sono tantissimi il nostro sistema il pluviometro i temporali gli agenti umettanti gli agenti surfattanti semplici composti abbiamo veramente tante armi che possiamo utilizzare per andare a diciamo mettere una pezza metterci una topa i problemi quando nascono agenti umettanti di tipo composto sono costituiti da tre o quattro tensiattivi bilanciano le micro e le macro porosità del terreno combattono l'idrorepellenza favoriscono l'assorbimento dell'acqua nei ristagni aumentano la disponibilità idrica nei pressi delle radici quindi rendono i concimi più performanti e duraturi aiutano la presenza microbica nel suolo tricoderma e microrize diminuiscono ovviamente il consumo di acqua prevengono in maniera indiretta la formazione del muschio e controllano in maniera indiretta l'emissione della rugiata ecco voi direte ma sono veramente dei prodotti magici che andrebbe allora li utilizziamo sempre c'è solo un piccolo problema che non sono gli agenti umettanti in tipo composto sono dei prodotti che costicchiano un po insomma vengono sempre dati comunque in dosaggi relativamente bassi si utilizzano ad esempio il water plus che il tensio attivo di tipo composto l'agente umettante surfattante presente in vesprato è un litro di soluzione costa però viene utilizzata diciamo un trattamento ecco una cosa che si può dire un trattamento poi a seconda di quanto poi noi reghiamo il prato perché è evidente che se noi facciamo un trattamento con un agente surfattante e poi tutta la settimana piove è chiaro che viene dilavato e quindi magari a posto di durare che possono arrivare a durare 3-4 settimane un singolo trattamento vengono fatti con 150 millilitri di prodotto più o meno su 100 metri quadri vengono distribuiti con la pompa spalla normalissima e poi non serve irrigare subito quindi noi possiamo darli e possiamo per dire magari domani dopodomani previsto un temporale prevista l'irrigazione del nostro lato turboso oggi facciamo un trattamento con il nostro agente umettante che poi avrà vita per circa un mesetto dicevo l'unico difetto è quello che costano un po' va bene spero insomma di avervi dato delle nuove informazioni sono prodotti molto interessanti sono prodotti che permettono effettivamente di lavorare in profondità sulla risoluzione dei problemi ed ora negli ultimi dieci minuti quarto d'ora vengo a rispondere alle vostre domande ovviamente nella descrizione di questo video vi ho messo un link di riepilogo su il corretto sistema di irrigazione nel prato e poi un approfondimento in cui ho riscritto ho scritto un articolo per quanto riguarda gli agenti umettanti tipo semplice tipo composto dove trovate l'indicazione dei prodotti dei dosaggi tutto quanto da utilizzare quindi chi tra di voi ci segue sa che poi non occorre stare attentissimi a tutti i micro dosaggi che dico perché poi comunque bene veniamo alle vostre domandone francesco grazie ceraudo che mi fa complimenti buona serata a tutti luigi eccetera 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 ecc Dietro la nata, Fabio, la terra che esce dal compostaggio può essere un agente umettante? Assolutamente no, anzi, la terra che esce dal compostaggio generalmente è un agente contro umettante. La sostanza organica ha un potere ritentivo idrico. Matteo Zanchi, ciao Fabio, scusa ancora, se volessi riseminare, quando spadrisce l'euforbia infestante, quindi a inizio ottobre immagino e non ad inizio settembre, che concime uso da adesso a ottobre? Allora, dipende un po' dalla zona, dalle stagioni, io credo che comunque inizi a regredire appena le temperature si abbassano, cioè appena le temperature di notte vanno sui 15 gradi e di giorno siamo sui 25, le inizi a regredire. Il momento della regrezione può essere già il momento nel quale tu inizi a fare le operazioni di lavorazione per la risemina, perché ne parleremo nei video che faremo, nei prossimi, nelle dirette, in tutto quanto, la risemina deve essere preceduta a una fase di taglio basso, a reggiatura, scarificazione, apporto di terriccio e semina. La reggiatura è una maniera per accelerare la morte anche delle infestanti di tipo estivo come l'euforbia. L'altra domanda che mi fai, che concime uso da adesso ad ottobre, se tu intendi dire, hai bisogno di una concimazione in attesa della risemina, hai due strade. Una, esegui una concimazione di tipo fogliare. Secondo me quella è una tra le soluzioni migliori per attendere e fare poi le concimazioni corrette un po' più avanti. Cioè adesso, tipo a ferragosto, fare una concimazione tipo integrativo utilizzando dei prodotti come green up, come help, cioè dell'azoto ureico di tipo liquido. Bene, andiamo avanti. Ok, bene Daniele, ho capito, la prossima volta mi fermo. È corretto irrigare di meno un prato in ombra? Davide mi chiede. Assolutamente sì, mi sono dimenticato di dire, grazie Davide, 35 litri di acqua al metro quadro a settimana valgono in una situazione in pieno sole. In ombra la riduzione, a seconda della quantità d'ombra, può essere del 30, del 40, del 50, del 60 e anche del 70%. Nella zona d'ombra del tapete erboso di Besprato, credo che non abbiamo mai il rilato, perché i temporali sono stati sufficienti a fornire il quantitativo di acqua. Ovviamente abbiamo anche utilizzato Water Plus, per cui abbiamo utilizzato l'agente surfattante tipo composto e questo ha giocato una grandissima, a nostro favore. Fabio mi chiede, Simone, che tu sappia, ci sono delle centraline di irrigazione collegate a dei sensori impiattati nel terreno che comunicano quando è ora di dare acqua in base alla secchezza del terreno? Sì, Simone, ci sono delle centraline di irrigazione che sono collegabili a dei sensori di umidità. Il sensore di umidità è una bella cosa, nel senso che ti misura l'effettiva umidità del terreno. Ci sono un po' di difetti di queste cose, perché ovviamente il sensore di umidità è in un punto determinato del terreno e si presume che tutto quanto il terreno sia dello stesso tipo. Comunque ci sono la Hunter e la Toro, costano un botto, hanno dei sensori di umidità a filo, la Hunter sono sicuro, la Toro ce l'ha addirittura Wi-Fi, però sono accessori da qualche centinaio di euro. Allora, ciao Fabio, Luca, ti seguo sempre nel video diretto. Venerdì ho fatto due temporali, nel giro di due ore 50 mm di acqua, quindi ha dato praticamente l'acqua per una decina di giorni. In realtà, siccome la capacità di campo è andata in saturazione, considera quel temporale lì un'irrigazione sicuramente per una settimana. Assolutamente sì, Luca, chiudi l'irrigazione per una settimana, mantieni però sempre l'occhio vigile. Cioè, noi chiudiamo l'irrigazione, portiamo in leggero stress idrico il tappeto erboso e poi riprendiamo ad irrigare. Il Viti, acquistata la sabbia riciclata da voi, bravo Viti, che me l'ha consegnata a settembre, sono a Bibione. Sì, assolutamente, guarda, prossima settimana. Allora, questa settimana siamo in inventario, quindi stiamo spedendo solamente le urgenze, parlo dello shop di Best Prato. Prossima settimana non spediremo neanche le urgenze, un po' perché Fregosto è giovedì, chiudiamo l'inventario e poi comunque tutto riparte a pieno regime con lunedì. Manuel, usando ogni anno gli elementi umettanti con terreno agirloso, in teoria si può avere un bel prato senza fare top dressing e carottature? Sì, perché no? Sì. Domanda, a titolo informativo, i prodotti a base di piretro per le zanzare, mi chiede Manuel Zaccarin, possono creare problemi al tappeto erboso? Lo vendono come prodotto naturale ma non vorrei disturbarsi i miei bacilli. Allora, che io sappia, non hanno nessun problema. Cioè il piretro, se parliamo del piretro, le piretrine non hanno degli effetti, diciamo, contrastanti nei confronti né del bacillo suttile, né di micorizze, né di tricoderma. Per quello che so io, insomma. Allora, andiamo avanti. Francesco, Fabio, come si distribuisce il water? Cosa vuol dire la goccia grossa? Vuol dire che se hai l'ugello, sai di quelli irregolabili che ti permettono di fare una nebulizzazione molto fine, oppure una nebulizzazione più grossa, scegli la nebulizzazione con la goccia un po' più presente. Si utilizza una pompa a spalla, con l'annaffiatoio è complicato darlo, una bella pompa a spalla con un gello a ventaglio, ad esempio, è la soluzione migliore. Oppure, il sistema che utilizzo io, ma non è che vi voglio vendere, però ragazzi, io lo sto utilizzando, farò un video perché bisogna dare onore al merito. Allora, potete tacciarmi di fare pubblicità, ma la Stoker 1247 con la barra a ugelli, pompa carellata da 200 euro, 15 litri, con la barra che ti fai in un passaggio a un metro e mezzo, a batteria a litio, e ho già fatto 8 trattamenti su 150 metri di quadri di prato, non l'ho mai caricato, è meraviglioso. Cioè, soprattutto, ti fa venire voglia di fare tutti i trattamenti liquidi, perché il problema di fare i trattamenti liquidi per uno che ha 500 metri di quadri è stare con una pompa a spalla sopra il prato. Io mi rendo conto che quando dicevamo di fare i trattamenti liquidi, la gente sforceva il naso. Ma adesso, con questo tipo di prodotti che sono a disposizione, purtroppo non esistono altri prodotti, o meglio, segnalatemi, perché se esistono dei prodotti di alta concorrenza che costano di meno, c'è una pompa irroratrice della Fox a batteria, ma non ha la barra. Non mi pare che abbia la barra. È carrellata. Quella della Stoker è fantastica. Adesso, magari si rompe fra un mese, per cui farò un video nel quale dirò che è una ciofeca, ma è veramente un toccasana per chi vuole fare i trattamenti liquidi. Oggi mi è arrivato Help, ho il prato un po' scarico, mi consiglio di distribuirlo a Fogliare Radicale. Fogliare, Francesco, l'abbiamo fatto anche noi, il prato ha ripreso. Utilizza anche pure il dosaggio massimo in questi giorni che le temperature non sono molto alte. Simone mi chiede Ciao Fabio, quindi se ho ben capito, gli umettanti composti simulano la ritenzione idrica di un prato maggiormente argilloso. Bravo Simone, nel mio caso quindi basterebbe quello semplice. Se il tuo prato è un prato argilloso, ovviamente l'agente umettante di tipo composto... Attenzione, attenzione, attenzione. Facciamo un... L'agente umettante di tipo composto, ovviamente, trova il suo massimo applicativo nel terreno di tipo sabbioso perché aumenta la ritenzione idrica. Ma siccome il bilanciamento degli agenti umettanti al proprio interno è calibrato per creare la migliore soluzione circolante, va bene anche nei terreni argillosi, va molto bene perché crea la situazione ottimale che anche nel terreno argilloso ha bisogno. Perché il terreno argilloso, che è facile al ristagno, nella prima parte ha bisogno dell'agente surfattante, dell'agente umettante. Ma se poi l'agente umettante fa di lavare via tutta l'acqua non va bene. Quindi anche nel caso dell'agente del terreno argilloso può avere il suo perché l'agente surfattante. È chiaro ed evidente che laddove ci sono dei fenomeni di ristagno si può prima provare con un agente umettante di tipo semplice e poi utilizzare invece l'agente umettante di tipo composto per ottimizzare la presenza di aria e di acqua all'interno del terreno. Davide, passato Always Green Up, Prato Superbo, bravo, ottimo cocktail Davide. Danny, buonasera a tutti ragazzi amanti del verde, qui ad Ardea, non ha affatto una goccia d'acqua, oggi 36 gradi, domenica ho dato Always, attendo risultati, macchie gialle a go-go. Benissimo, Always, ovviamente indaga le motivazioni delle macchie gialle. Io penso di approfittare dello sconto 5% per prendere la super pompa carrellata della Stoker, mi sono strancato di avere le bolle nelle mani e poi vi dico, guarda Manuel, prendila, non lo dico perché c'è lo sconto o perché la compri su Besprato, eccetera, ma perché poi voglio sapere proprio da te se riscontri la facilità di utilizzo così come la sto riscontrando io. Dopodiché, ripeto, troverai che è un po' rudimentale, troverai che la Siemage devi dare due martellate, è un prodotto, insomma, dobbiamo considerare che le pompe carrellate a batteria, quelle professionali, costano 800, 900 euro, 1000 euro, ok? Quindi compra la Manuel, non lo dico semplicemente per vendere, ma perché secondo me è il prodotto giusto oggi da utilizzare. Poi magari il prossimo anno verranno fuori altri competitor, prodotti migliori, abbiamo spinto per tre anni, ho spinto con la Botos e con la Mugioli perché tirassero fuori una pompa carrellata. Alla fine gli ho detto troviamo un artigiano, troviamo una pompa a batteria, a un artigiano facciamo fare il carrellino, le barre le troviamo, prendiamo. C'è il modello, scusate, c'è anche il modello della Volpi, ok? Bello, anche quello, probabilmente più fino, ma cavolo, costa il doppio, cioè costa 400 euro se uno compra tutto quanto. Bene, abbiamo concluso, Water X giusto per il terreno argiloso, si Ale, e concludo veramente con, prima di dirvi due cose, rispondo alla domanda di Fabiano, mi consigli di comprare un robotto agli a erba da uno che lo monta, o me lo monto io, ma montatelo tu, è semplicissimo mettere giù il filo perimetrale. Dai Fabiano, su, che risparmi! Bene, allora vi ricordo, mercoledì, nel newsletter, scriveremo proprio una newsletter dedicata a questi temi, quindi se volete rimanere sul pezzo, iscrivetevi alla newsletter. Abbiamo pubblicato un video sui temporali, sulla cosa, iscrivetevi anche, se siete già iscritti al canale YouTube, stiamo facendo le nuove registrazioni per i lavori di settembre, insomma, divulgate il canale YouTube di Besprato, stiamo crescendo giorno dopo giorno, abbiamo superato i 10.000 iscritti, non vogliamo porci freno, vogliamo arrivare a 100.000! Ok, ragazzi, abbiamo, sì, Davide, effettivamente, non posso dire di no, Volpi, ottimo marchio, ottimo brand italiano, per coloro i quali hanno la disponibilità, prendete pure la Volpi, credo che ce l'abbiamo anche in Besprato, forse no, forse la metteremo, vediamo, c'è comunque a disposizione, perché la distribuzione dell'ama, e ama il nostro fornitore. Bene ragazzi, buonanotte a tutti, buon lunedì sera, buone vacanze, vi ricordo comunque, Besprato sempre aperto, è nata una promozione, proprio perché durante questa settimana, siamo in inventario, facciamo poche spedizioni, prossima settimana, difficile, abbiamo messo il 5% di sconto, su tutto quanto lo shop, profittatene, perché magari è il modo giusto, per acquistare e risparmiare. Bene ragazzi, ciao a tutti, buonanotte, e a presto.